Musica Avevano il barbecue ma non l'attrezzatura adatta Cinque giovani milanesi recuperati sulla vetta del Due Mani Volevano passare la notte in bivacco ma sono stati sorpresi dal gelo Lotta per la vita un operaio di una trafideria di Bosisi O feritosi in un incidente con un muletto E' stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Manzoni Indagano i carabinieri Salgono i pazienti ricoverati positivi al coronavirus all'ospedale Manzoni di Lecco Tre sono tenuti in vita dal casco, uno in terapia intensiva E' il numero più alto da un mese a questa parte Successo per la Valma Street Block, manifestazione di boulder organizzata dopo due anni di assenza a causa Covid Le facciate degli edifici usati per cimentarsi in salite acrobatiche Buonasera a tutti i telespettatori Sarebbero ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unicaleco Volevano trascorrere la notte in bivacco in cima al Monte Due Mani Ma sono rimasti broccati a 150 metri dalla vetta a causa della neve e del ghiaccio Salvati dal soccorso alpino e vigili del fuoco Cinque ragazzi milanesi nello zaino le salamelle ai piedi scarpe da tennis Erano attrezzati ma per fare il barbecue Non certo per arrivare in cima alla montagna nel cuore della notte con neve e ghiaccio Nello zaino birra e salamelle ai piedi scarpe da tennis Salvi solo grazie ai soccoritori che hanno lavorato più di cinque ore per riportarli a valle Avventura lieto fine per cinque ventenni milanesi di origine filippine Recuperate all'alba sulla vetta del Monte Due Mani Erano arrivati domenica sera da Milano in treno Da qui a piedi fino a Ballabio Volevano raggiungere il bivacco Locatelli sul Due Mani e passare lì la notte Ma hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati in cresta A circa 150 metri dalla cima a 1500 metri di altitudine In un punto molto impervio con salti e roccette e anche con neve e ghiaccio Lunedì mattina all'alba si sono resi conto che da soli non ce l'avrebbero mai fatta scendere E hanno chiesto aiuto In azione tre squadre del soccorso alpino, stazione di Lecco della diciannovesima delegazione lariana Insieme ai vigili del fuoco I soccorritori li hanno messi in sicurezza e hanno fornito abbigliamento e attrezzature adeguati Coperte termiche e bevande calde Infreddoliti e stanchi ma illesi Anche se uno di loro ha riportato un principio di ipotermia Un medico del soccorso alpino è rimasto in contatto telefonico costante Per monitorare le condizioni di salute In volo da Como si è alzato anche l'elicottero di Areo Che ha effettuato un tentativo per raggiungerli Ma le condizioni meteorologiche non lo consentivano In quota nebbia, neve e pioggia In montagna le condizioni ambientali richiedono la massima attenzione L'appello del soccorso alpino Prima di qualsiasi escursione Meglio chiedersi se si conosce abbastanza il posto Se si è in grado di compierla Se al momento giusto il tempo lo consentono Inoltre mai sottovalutare l'importanza dell'abbigliamento Delle calzature E di tutto l'equipaggiamento Che può servire per affrontare le ore all'aperto Magari anche di notte In seguito a qualche imprevisto Pensarci prima Significa salvarsi la vita Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di oggi In un'azienda di Bosisi o Parini In un'altra fileria di via Brianza Un operario 59enne è stato travolto da un muletto La sua gamba è rimasta incastrata sotto il mezzo Sul posto i soccorsi che hanno trasportato l'uomo In codice rosso all'ospedale di Lecco Presenti anche i tecnici dell'ispettorato del lavoro E di ATS Brianza Oltre ai carabinieri A loro spetterà il compito Di chiarire le ragioni dell'accaduto E stabilire eventuali responsabilità Dalla scuola al confine con l'Ucraina Per aiutare i profughi in fuga dalla guerra Giuseppe Caccialanza Insegnante racconta il viaggio Per consegnare i beni di prima necessità Raccolti all'Istituto Stoppani di Lecco Giovedì 7 aprile Concerto per la pace Avevamo lasciato il professor Caccialanza Intento nella raccolta di beni di prima necessità Alla Stoppani di Lecco Pronto poi per partire alla volta del confine con l'Ucraina E consegnare di persona Quanto raccolto ai centri di accoglienza Per i profughi in fuga dalla guerra Detto fatto A metà marzo la partenza Con un tiro di 12 metri E 29 bancali riempiti Un'esperienza diventata anche materiale didattico Per parlare con gli studenti Di ciò che sta accadendo Siamo partiti Prima siamo andati in Ungheria Siamo andati nel confine tra l'Ungheria e l'Ucraina E lì siamo andati in un centro d'accoglienza E abbiamo distribuito Dato delle cose a questo centro d'accoglienza Fatto quello siamo andati in Romania Noi eravamo d'accordo con questo padre Il padre Albano Che sta lavorando molto in Ucraina Lui parte alla mattina Riempie questi furgoni di cibo Medicina e così E va in Ucraina Quella volta lì stava via due giorni Era andato nella zona di Odessa Mentre aspettavamo Siamo andati a vedere il lavoro Che padre Albano fa normalmente Quindi con i Rom Perché comunque Le situazioni che non funzionano Continuano a non funzionare Il mattino dopo Siamo andati al confine Eravamo al confine tra la Romania e l'Ungheria E lì c'è ancora la Dogana E ci siamo accorti che proprio guardandoci intorno Erano solo bus Pulmini Macchine Tutte con targa ungherese Tutte piene di bambini E di mamme Quello che più mi è rimasto impresso È questa mamma Con quattro bambini Un bambino in braccio Tre bambini per mano E due borsette Due borse Con tutto quello che molto bene Era riuscito a prendere Per scappare Il primo giorno che eravamo al confine tra Ungheria e Ucraina Abbiamo fatto anche un collegamento con la scuola Così ho fatto vedere quello che stavo facendo E dove stavamo andando E quello ai ragazzi è servito molto Mi ricordo un bambino che è arrivato lì Quando stavamo preparando E la sua mamma dice No sai che mi ha detto Che domani Caccialanza non viene a scuola Non viene a scuola perché va a fare il supereroe Il professor Caccialanza è anche direttore del coro gospel Soul Quair di Lecco Che giovedì 7 aprile alle 20.45 La chiesa del Sacro Cuore di Bonacina Si esibirà in un concerto per la pace Non raccoglieremo fondi Non raccoglieremo niente È proprio un modo di manifestare solidarietà Con le persone che si trovano in guerra Poi abbiamo in programma un altro concerto Il 30 ma stiamo definendo ancora Il posto dove andare Faremo un concerto con il coro Della chiesa ortodossa di Lecco In leggera risalita I casi di coronavirus All'ospedale Manzoni di Lecco Secondo l'ultimo report Fornito da SST Sono 58 i pazienti positivi ricoverati Uno dei quali in terapia intensiva E tre curati Con il casco respiratore Da più di un mese Non si registrava un numero di leggenti positivi Superiore al 40 Bilancio positivo di Avis Provinciale nel 2021 Nonostante una leggera diminuzione Dei soci Le donazioni sono aumentate Lecco si conferma fra le province più generose d'Italia Dopo la pandemia La generosità L'altruismo dei lecchesi non si ferma Anzi aumenta Aumentano del 6% Le donazioni nella provincia di Lecco Come mai questo dato? Tradizionalmente il territorio lecchiese è un territorio generoso per quanto riguarda la donazione di sangue E siccome noi abbiamo 15.000 donatori Ovviamente abbiamo un potenziale enorme Quindi nonostante la pandemia Nonostante il rallentamento Nel 2021 Siamo riusciti a incrementare le donazioni rispetto all'anno precedente Un altro dato interessante è l'aumento delle giovani donatrici Fisiologicamente è un pochino più difficile per le donne Tant'è che le donne possono donare solamente due volte all'anno Mentre gli uomini fino a quattro Quindi alla luce di questo acquista ancora più valore questo dato Lecco è inoltre tra le province che donano di più in tutta Italia C'è una densità di donatori veramente alta Sì esatto Noi abbiamo raffrontato i dati del nostro territorio Con i dati di Avis nazionale o di Avis regionale Lombardia Abbiamo rilevato una donazione più che doppia rispetto alla regione Quindi siamo a circa sugli 80 donazioni per 1.000 abitanti Teniamo conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità Dice che un rapporto ottimale dovrebbe essere di 40 Quindi siamo più che al doppio E all'interno della provincia di Lecco c'è un paese che merita attenzione particolare Bellano ha veramente tanti donatori Bellano raccoglie un territorio abbastanza vasto E soprattutto raccoglie i donatori del gruppo di Premana Che è un caso particolare Teniamo conto che su circa 2.100 o 2.200 abitanti A Premana ci sono 400 donatori Il comune di Oggione e quello di Galbiate Uniti per il completamento della ciclabile intorno al lago di Annone L'obiettivo è accedere a un bando per la rigenerazione urbana Che consentirebbe di sistemare il tratto che collega i due comuni L'unione fa la forza si sa E così il comune di Oggione e quello di Galbiate Hanno siglato una convenzione per provare ad accedere al bando Sulla rigenerazione urbana Che mette sul tavolo fino a 5 milioni di euro Una cifra che verrebbe utilizzata per realizzare il tratto della ciclabile Intorno al lago di Annone Che collega proprio i due comuni Un bel passo avanti in ottica turistica E nella promozione di una mobilità sostenibile Stiamo provando insieme al comune di Galbiate Ad associarci per provare a presentare una proposta Su un bando del PNRR Per trovare le risorse Per completare la pista ciclopedonale L'anello intorno al lago di Annone La parte più consistente che manca È proprio quella che collega il comune di Oggione Al comune di Galbiate Ma anche una connessione con i punti di interscambio Che potrebbero essere rappresentati dalle nostre stazioni ferroviarie Quindi quella di Oggione Quella di Sala al Barro Con riferimento al comune di Galbiate E all'autostazione dei Pullman Che c'è in centro Galbiate Anche con riferimento alla possibilità di mettere del bike sharing Quindi la possibilità di arrivare in stazione E noleggiare la bicicletta Per poi fruire della nostra pista ciclabile Questo è solo il punto di inizio di un percorso Che poi prevederà appunto La presentazione di una fattibilità Di un piccolo progetto E poi vediamo se riusciamo a trovare le risorse Parallelamente insieme a tutti i comuni rivieraschi Del lago di Annone Già da un paio d'anni stiamo portando avanti l'iter Per arrivare alla stipula di un protocollo d'intesa Che avrà come ente capofila la provincia Che ci permetterà di andare avanti Anche sul miglioramento Sul completamento di tutto l'anello E coinvolgerà anche gli altri comuni Sono due percorsi paralleli Che noi stiamo portando avanti Per cercare di arrivare a questo ambizioso obiettivo Ma che secondo noi è fondamentale per il territorio Anche per l'attrattività turistica dello stesso Cambio al vertice di Coldiretti Comolecco Rodolfo Mazzucotelli È il nuovo direttore dell'associazione di categoria 56 anni Originario dell'Ecchese Negli ultimi sette ha guidato la federazione di Pavia Prende il posto di Giovanni Luigi Cremonesi Che dopo quasi tre anni nelle province lariane Dirigerà Coldiretti Sondrio Dopo due anni di assenza Torna a Valma Street Block Manifestazione di arrampicata urbana Promossa nel centro di Val Madrera Tanti giovani che si sono cimentati Nello scalare le facciate degli edifici Un evento boulder Blocchi diciamo artificiali Non su roccia, non su sassi Ma tutto quello che si trova nel paese Che si può scalare diciamo Divertente, molto più divertente Che farlo io su roccia secondo me Il contatto anche con i muri è diverso rispetto a come in realtà la roccia È un'esperienza particolare da provare ed è particolare, divertente perché si sta anche insieme Qualcosa di diverso dal solito rispetto alla palestra, alla falese, ai blocchi fuori Anche per valorizzare comunque le città, per portare nuova gente In questi anni di stop con il coronavirus devo dire che un po' è mancata Dopo due anni di stop è tornato il Valma Street Block Oltre 30 blocchi per il bouldering in città Targato Osa e Cai Val Madrera È una manifestazione di arrampicata urbana Che si svolge qui nel centro di Val Madrera Abbiamo quest'anno 37 blocchi Alcuni li abbiamo presi dalle vecchie edizioni E altri invece sono totalmente nuovi Qui potete vedere uno dei nuovi blocchi, il cubo Che quest'anno è un dodecaedro E come sempre si parte da una presa e bisogna fare un giro intero Abbiamo registrato più di 200 iscritti Il bello è di riscoprire magari fuori da casa Degli angoli, dei cornicioni, delle mensole, delle colonne Con un altro occhio Qualcosa in cui ci si può sbizzarrire e arrampicarsi su Vorrei ringraziare in particolare tutto lo staff che ci sostiene da anni Ormai questa è la sesta edizione Oltre ai 35 blocchi ci sono le persone dietro All'iscrizione e tutto E tocchiamo quasi il centinaio di persone che ci danno una mano Vorrei ringraziare in particolare loro e gli atleti Perché dopo una giornata così sicuramente se la ricorderanno E ci hanno dato una grossa soddisfazione Il primo treno arrivò a Lecco nel 1863 E da allora si è intrecciato con la storia Prima industriale e poi turistica della nostra città Il libro di Salvo Bordonaro Saluti a grande velocità da Lecco Ripercorre il passato del nodo ferroviario Con interessanti spunti di riflessione sul presente Il ponte ferroviario di Pescarenico O meglio il suo diorama Sulla copertina del libro Saluti a grande velocità da Lecco Che racconta il passato e il presente della nostra città Attraverso la storia del suo nodo ferroviario In che modo il treno è rappresentativo per la nostra città? Sicuramente ha caratterizzato tutto il periodo dello sviluppo industriale della città Dal suo arrivo nel 1863 praticamente fino agli anni 80 Ha accompagnato l'arrivo delle materie prime Soprattutto quelle destinate all'industria siderurgica E ha portato in giro per il mondo i prodotti dell'industria siderurgica E non solo Perché quando hanno capito che il treno poteva essere un mezzo piuttosto veloce Per raggiungere i mercati Anche le industrie disseminate sul territorio della Valsassina E lungo il lago Praticamente hanno poi Come dire in qualche modo Deciso di utilizzare questo importante vettore Oggi la visione della rete ferroviaria è molto diversa C'è chi addirittura si oppone alla realizzazione di nuove ferrovie Le stesse che una volta erano ben accolte e fortemente volute Che cosa è cambiato? Ma allora Noi ci siamo in qualche modo assuefatti A delle modalità di trasporto Che come dire Oggi percepiamo come non più sostenibili E non è solo il rincaro dei prezzi del carburante a ricordarcelo Serve Ce lo dicono praticamente in tutte le salse da varie parti Serve una modalità di trasporto che sia più compatibile Anche con le esigenze del rispetto dell'ambiente Quindi da questo punto di vista il treno Anche se qualcuno come dire ne ostacola la corsa Ha sicuramente un grande futuro I collegamenti transcontinentali dalla Cina verso l'Europa Eccetera eccetera Sono la dimostrazione di come il vettore ferroviario Si stia incaricando dei trasporti per il futuro In chiusura del nostro telegiornale Vi ricordo la raccolta fondi Attivata dalla Fondazione Comunitaria dell'Ecchese Per garantire l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina Le donazioni sosterranno le spese per l'ospitalità Nei comuni della provincia di Lecco La fornitura di generi di prima necessità E tutti gli interventi necessari per aiutare i rifugiati Come vedete in grafica Sono le coordinate bancarie per donare un contributo Grazie ancora per averci seguito Vi ricordo in chiusura la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda Sui nostri social e sulle pagine di Unica Grazie ancora per averci seguito E vi auguro una piacevole serata Grazie ancora per averci seguito